Ciao a tutti ragazzi bentornati in questione, sono GNM e oggi siamo tornati nelle Bed Wars dopo tantissimo tempo. Oggi sono solo perché Matteo mi ha abbandonato per quella caccata di Fortnite, quindi se volete mandate il vostro curriculum a gnm.gamingvideos.com Io li leggerò e vedrò chi è il più adatto a questo lavoro. Detto questo ci vediamo in partita e che Dio ce l'ha mai di buona, anche se Dio non esiste. Andiamo subito. Posso entrare? Ma lei chi è? Scusi. No, lei chi è? Chi sono? Aspetta, questa skin l'ha ricordo. Dammi un aiuto. Non mi l'aiuto, abbiamo appena avviato una chiamata su Skype, dovresti saperne il mio nome o no? Eh no, non me lo ricordo. Ragazzi me lo sono ritrovato in team questo qui, cioè non lo conosco. Eh vabbè, cosa che capita. Dammi della lana che vado a fare il ponte, veloce. Ma tu chi sei? Chi cavolo ti conosce? Dai ragazzi, torniamo seri. Finalmente ho ripescato su Guglioni qua a Matteo. E a lui mancavano gli insulti, a me mancava insultarlo. E praticamente siamo qui. Già Tex a quanto pare per un periodo di tempo ha supportato la 1.13. Ma siccome comunque come ben sappiamo il server del cazzo, ovviamente poteva supportarla a lungo. No, infatti adesso supporta. Eccolo, eccolo. Indovinate un po', la 1.8 e la 1.9. Comunque sono due grandi, belle versioni. Lo vado a pestare a sangue. Vai, 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 spacchiamogli il letto. È solo. No, non è solo. Coppa, però faitalo. È letto, è scoperto. Oh, beh, damn, tornano a spaccare. Mamma mia. In grande stile. Quello forte è morto, l'amico stupido no. Ma friend. Ande. Ragazzi, tra l'altro vi vorrei dire che il 23 molto probabilmente sarà in live. E ci sarà pure Matteo. Come no. Certo. Sicuramente. Perché no. Uh, Sharpeness. Ma lo sa che ti dico, io me ne vado al 100 e mi piglio gli smeraldi. Eh, sono. Dai. La prima che facciamo insieme dobbiamo vingerla, cioè. Eh, eh. Siamo arrugginitissimi, ragazzi. Il rosso di vengolo è bravo. Torna subito. È bravo a costruire. Eh, io qua sono, qua sono, qua sono. È caduto. Non ha vita. Compa, scemo. Dai, che te sponano gli smeraldi, friend. No, no, no. Questo o c'ha l'autobilde o sua madre è morta. Sono due le cose. Ma se andessimo a spaccare i red, friend. Vai, TNT, come vecchi... Ci fanno di nuovo gli assalti cattivi, ragazzi. Vai, vai, vai. Come vecchi tempi. Di quelli fatti proprio in maniera che tu dici, ma... La cazzo di cane, proprio. Via! Si va. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap a fatti attività che cosa sta facendo fermo ma stupi già è forte sono morto non sono 10 diamanti bene siamo messi faccio la forgia 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 smeraldi faccio la vita cioè ragazzi allora faccio l'armatura in diamante io c'ho un diamante se ti servirà la reinforce d'armor così siamo messi bene fireball ragazzi prendiamo rigorosamente tnt la me la doro e altre fireball c'è gente c'è gente non c'è nessuno bravo bravo fai così bravissimo bravissimo tnt malissimo spaccato compaio mi suicido ragazzi ho spaccato il letto mi faccio un suicidio tattico perché non si sa mai se arrivano no sono andati al pink loro ok a una vista che l'ho ucciso no a lo vedo livello 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 ok sono qua mannaggia tua mamma davanti davanti la madonna ok si è suicidato probabilmente era uno del protone dell'esecuzione degli ghiiis guarda il pink dov'è ok e dov'è si potrebbe intuire secondo me non capisco dov'è a o è la sopra ok oh l'ho colpito ho colpito minchia seccare seccare tutto quello lo sto bruciando sul sole anche io sto cercando volevo fare quello no fra aspetta no quale arriva il limite quali mi arriva alla fine della partita 17 secondi c'è no io mi sto scandalizzando ti prego ops sei caduto è fatto cadere fra è no però c'è l'acqua muori coglione sì sì no perché ragazzi se gli dava la vittoria sto scemo si dava la vittoria sto scemo grazie grazie tante second killer bibi vinta così mamma mia mamma mia mamma mi ha capito se volete condivete noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao